Non è il 2011 quando c'è stata la prima inaugurazione di questa splendida opera dell'Ipogeo, l'opera che ha preso il posto della rotonda di Piazza Garibaldi dove c'erano i giorni e i numeri segnati con i fiori una volta, una volta c'era anche una fontana, una volta era un'istituzione. Non siamo nel 2015 quando doveva esserci la seconda inaugurazione di questa opera che avrebbe potuto vedere oggi a posto di quel campo non coltivato Golderec dell'artista Carmine Di Giandomenico. Non è l'inaugurazione dell'Ipogeo avvenuta nel 2016 per la terza volta, c'erano un po' tutti gli amministratori. No, siamo qui perché non c'è manutenzione, perché ci sono problemi di infiltrazioni che risalgono comunque dalla prima inaugurazione e poi c'è una cosa che dà il colpo all'occhio, quello che ferisce, quello che fa male. Una volta qui c'erano tanti giardinieri che alle prime luci dell'alba curavano il manto erboso perché era un bel vedere passare e ammirare il prato verde di Piazza Garibaldi. Era un fiore all'occhiello, come ho già detto prima, era un bel esempio, era un benvenuto, era un modo di mostrare la cura della città. Oggi c'è quello che vedete, c'è l'abbandono totale di un'amministrazione che non riesce a garantire nemmeno un piccolo appezzamento di patate al centro di una struttura che non è mai decollata e che grida allo scandalo dei fondi pubblici. Questo è l'Ipogeo di Teramo, questa è Teramo nel 2021.